Salve amici, allora oggi io vi voglio leggere una lettera che mi è arrivata qualche giorno fa sulla mail che ho messo all'interno dell'info box dove appunto chiedevo a chi voleva di raccontare la sua esperienza questa non è una mail di esperienza, questa è una mail di contestazione ma lo decidete voi poi che cos'è, io intanto ve la leggo e vorrei commentarla con voi perché penso che il modo migliore per far capire il livello di indottrinamento e di chiusura psicologica delle persone che si trovano all'interno di una setta sia proprio facendo parlare la loro bocca, la loro viva voce quindi, allora un avvertimento, ve lo dico da subito ovviamente io non dirò chi l'ha scritta, questo è un'ovvietà che però ci tengo a rimarcare quello che vi voglio sottolineare è che ve la leggerò così nuda e cruda senza assolutamente omettere nulla questo significa che anche a livello grammaticale dovete comunque accettare quello che arriva da questa lettera ok? allora gentile dottoressa, ho seguito più volte i suoi argomenti se mi sono iscritto al suo canale è soltanto per seguirla e ricevere ancora altre notifiche ma ciò non voglia dire che io avrei intenzione di lasciare la comunità che sto seguendo da circa più di 30 anni lui si è iscritto al canale per ricevere notifiche sarà un hobby anche questo andiamo avanti noto che lei è una canida opposta alla comunità dei testimoni di Geova una volta cercai di farle una domanda e lei mi rispose nel social di youtube in una maniera aspra dicendomi semplicemente che lei era soltanto un'informata e mai stata una testimone di Geova ricordo ancora la domanda che mi fece questo signore che mi scrive mi chiese se ero mai stata una testimone di Geova e io risposi come ho risposto a tante altre persone di voi che me l'hanno chiesto nel corso dei mesi che non sono mai stata una testimoni di Geova secondo lui io risposto in modo aspero evidentemente il non essere testimoni di Geova e non esserlo mai stati è già sinonimo di asprezza caratteriale sarà così non lo so vabbè andiamo avanti allora la domanda pone come lei possa essere convincente e credibile quando io ci vivo dentro posso assicurarla che non sono un anziano della congregazione dove vivo né che io abbia altre mansioni o incarichi sono soltanto un semplice proclamatore il fatto che lei è una psicologa avrei tanto da dirle ma glielo dico dopo che avrà letto quello che avevo che risponderla in quel video del love bombing nell'ultimo video che lei aveva realizzato sul discorso love bombing innanzitutto l'amore che provano i nostri fratelli lei non se lo può neanche immaginare e me sa de no la sua cattiveria la porta a pensare di noi tutto e sempre in maniera negativa abbiamo iniziato con l'attacco ad personam io sono cattiva sappiatelo eh io sono cattiva per lei non esiste niente di positivo nella nostra congregazione eppure molti rappresentanti istituzionali del nostro paese hanno dato un contributo alla nostra comunità con delle testimonianze in nostro favore sì come no quella di farvi prendere il 5 per 1000 così oltre che con la cassetta delle contribuzioni il corpo direttivo a Warwick campa anche con il 5 per 1000 italiano andiamo avanti non capisco del perché lei è così accanita sulla nostra comunità piuttosto e qui arriviamo ad una delle solite perché non parla un po' dei crimini della chiesa che dal terzo secolo ne hanno fatto di tutti i colori fino ad oggi mi pareva strano che non arrivavano i cattolici cari ragazzi ok altro cavallo di battaglia questo ce lo siamo tolti andiamo avanti lei offende continuamente con parole come settarismo della nostra comunità io a confronto di lei sono certamente un povero ignorante ma quando ero a scuola prima che diventassi un testimone di Geova da una insegnante mi fu detto che la parola settarismo vuol dire che degli adepti di una comunità sono tutti sottomessi ad un solo capo carismatico e devono a lui una totale obbedienza certo la società torre di guardia mamma watchtower quindi vede lei ha detto che è una setta se l'ha detto da solo amico mio e poi continuo ancora su questa storia del settarismo scrivendomi e non soltanto setta vuol dire una comunità illecita che si nasconde alle autorità come fa a dire che siamo una setta abbia pazienza ma a lei sembra lecito indurre le persone al suicidio con la questione delle trasfusioni e mi fermo qui perché questo è un argomento che affronterò nel dettaglio più in là ma dico solo questo lei la considera una cosa lecita legale se è così la sua visione di legalità e la mia sono profondamente diverse continuiamo come fa a dire che siamo una setta la comunità dei testimoni di Geova sono riconosciute dalle autorità e mi meraviglio che una laureata come lei ignora i nostri diritti della nostra costituzione italiana articolo 19 e 20 dove dice e qui mi fa il copia e incolla classico dei classici tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma individuale o associata di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di diritti contrari al buon costume il carattere ecclesiastico il fine di religione o di culto di un'associazione o di istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione capacità giuridica e ogni forma di attività tra l'altro sottolineo che sono le sei riche ovviamente perfettamente scritte all'interno di tutta la mail visto che il resto è uno scempio anche a livello grammaticale come potete notare denota un livello culturale veramente infimo continuiamo vorrebbe forse mettersi al di sopra di queste norme della costituzione italiana non mi permetterei mai e non per fare un favore a lei perché io rispetto la mia costituzione a differenza della società torre di guardia che non rispetta niente e nessuno e utilizza e sottolineo utilizza la costituzione del paese in cui si trova solo per rivendicare i propri diritti nient'altro non c'è riuscito Hitler con la persecuzione contro gli ebrei e i testimoni di Giove e neanche Mussolini e vorrebbe lei fare guerra contro di noi? no non è nella mia intenzione fare la guerra a voi non mi interessa perché so già che arriverà il momento in cui ci sarà chi si occuperà di fare la guerra a voi e comunque mio caro signore lei che inizia con gli attacchi ad personam si renda conto di quanto è ridicolo perché io non mi sto rivolgendo a lei singolo testimone di Geova io sto parlando di quelle che sono le malefatte della società di cui lei è un adepto quindi lei che si rivolge a me con l'attacco ad personam è un grandissimo maleducato oltretutto continuiamo lei ha citato un brano della Bibbia quello di Matteo capitolo 12 che noi prendiamo le scritture troppo in maniera letterale ma chi le ha detto che non amiamo i nostri parenti? io sono il solo testimone di Geova nella mia famiglia ma li amo tutti non mi pare di aver sostenuto che voi non amate i vostri parenti è una sua libera deduzione o è ciò che lei osserva costantemente all'interno della sua setta e poi è logico che lo venga a raccontare a me mettendolo in bocca a me si chiama spostamento e adesso mi dice che mi vuole rinfrescare la memoria e dice così letteralmente preparatevi perché è una robetta interessante tanto per rinfrescarle la memoria una volta durante il ministero di Gesù una donna riuscì a levare la sua voce al di sopra della folla gridando felice il seno che ti ha portato e le mammelle che hai succhiato se Gesù voleva che sua madre fosse oggetto di riverenza quella era un'occasione d'oro per incoraggiare una tale forma di devozione scusi, cosa c'entra la riverenza nei confronti della madre di Gesù con il versetto che io ho citato nel video del lob bombing di cui lei sta parlando questo è uno dei versetti che voi utilizzate quando parlate con i cattolici per parlare dell'idolatria lei mi spieghi che cosa c'entra ma io non mi posso aspettare che lei riesca a fare anche solo 2 più 2 capisce? non me lo posso aspettare continuiamo Gesù invece rispose no piuttosto felici quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica ciò voleva dire che Gesù metteva in risalto che era più importante l'amore di Dio che l'amore verso i membri della sua casa questo faceva intendere che Gesù dava più importanza alla parola di Dio anziché una donna che aveva avuto il privilegio di aver allattato il figlio di Dio tutte sue libere deduzioni e continua anche ai tempi di Mosè quando commisero il peccato ai piedi del monte Oreb adorando un vidello d'oro sa cosa successe? me lo racconti lei avanti visto che date per scontato di essere gli unici eruditi sul testo biblico me lo racconti vediamo cosa mi dice in esodo al capitolo 32 dai versetti 26 al 29 dice quanto segue Mosè si pose alla porta dell'accampamento e disse chi sta con il Signore venga da me gli si raccolsero intorno tutti i figli di Levi gridò a loro dice il Signore il Dio di Israele ciascuno di voi tenga la spada al fianco passate e ripassate nell'accampamento da una porta all'altra uccida ognuno il proprio fratello ognuno il proprio amico ognuno il proprio parente i figli di Levi aggirono secondo il comando di Mosè e in quel giorno opererano circa 3.000 uomini del popolo allora Mosè disse ricevete oggi l'investitura dal Signore ciascuno di voi è stato contro suo figlio e contro suo fratello perché oggi egli vi accordasse una benedizione e questa scrittura non è attinta da una delle nostre Bibbie ma quella della CEI altrimenti andate farneticando che la nostra Bibbia è manipolata no caro Signore non siamo noi che farnetichiamo che la sua Bibbia è manipolata intanto non si chiama Bibbia ma si chiama Traduzione del Nuovo Mondo delle Sacre Scritture lo sa perché? perché non vi hanno dato l'autorizzazione a chiamarla Bibbia proprio perché è manipolata si informi anche su questo continuiamo se volessi se lui volesse dopo due pagine e mezza di roba suona quasi come una minaccia se volessi potrei dimostrare con altrettante scritture come ad esempio il sacerdote Eli al tempo di Samuele fu punito da Geova Geova è il nome del suo Dio perché Dio non si chiama Geova faccia ricerche, si informi fu punito da Geova perché i suoi figli erano corrotti e pervertiti ed Eli non li avvisava neanche che Geova li avrebbe un giorno o l'altro puniti magari li ammonì pure ma in maniera limitata certo lei lo sa perché c'era questo perché per Eli l'amore che nutriva per i suoi figli era più forte dell'amore che aveva per Geova e come andò a finire? ora me lo dice lui come va a finire che i suoi figli morirono tra i primi in una battaglia contro i filistei allora acerrimi nemici di Israele certo mi fa anche la digressione storica perché io non conosco il testo biblico ma Eli mentre era seduto su uno sgabellino alla notizia della morte dei figli poiché era molto vecchio, cieco e appesantito cadde all'indietro con la nuca a terra e così morì anche Samuele aveva dei figli buoni a nulla ma almeno lui li riprendeva ecco perché Samuele ebbe l'approvazione da Dio ecco dopo tutte queste digressioni di tipo biblico io vorrei ricordare a questo signore che sono passati più di 2000 anni nel frattempo non so se ve l'hanno detto è arrivato Cristo eh io non so se voi lo state ancora aspettando ma sappiate che è arrivato lo dovrebbe sapere perché all'interno della traduzione del nuovo mondo c'è anche il nuovo testamento anche quello manipolato ma comunque Cristo c'è quindi questo signore dovrebbe saperlo ecco abbiamo un'altra digressione Cora un ribelle che bramava la successione sacerdotale di Aronne fratello di Mosè fu punito, inghiottito dalla terra che si aprì sotto i suoi piedi e insieme a lui altri 250 suoi sostenitori eppure i figli non morirono e sai perché? perché rimasero fedeli a Geova e poi mi dice lei che ha una bibbia della Diodati Diodati è stato un grande traduttore la Diodati non era una casa editrice vado a fare un confronto e si rende conto che al capitolo 26 di numeri ai versetti 10 e 11 è così e beh lo doveva dire lei perché io non lo sapevo certo quindi come avete visto qui siamo anche questa digressione sui vari versetti biblici dell'Antico Testamento in realtà è stata utilizzata per sottolineare che dato che io secondo lui mi sto mettendo contro la sua setta automaticamente io farò la fine di tutta questa gente che è stata nominata in questi versetti quindi praticamente mi sta mandando qualche mezza maledizione vedete sapete qual è la realtà dei fatti che questo signore con tutta questa digressione sta facendo solo una cosa sta affermando che oggi loro si trovano nella condizione di non poter ammazzare chi non è della loro stessa religione chi non è della loro stessa setta e chi si ribella alla loro setta perché non stanno più appunto sotto la legge di Mosè del Vecchio Testamento di conseguenza che cosa succede? che le persone le uccidete a livello sociale come? la disassociazione signori lo stracismo che praticate il mobbing familiare perché di quello stiamo parlando non so se lei lo sa visto che qui blatera su articoli di legge e su Costituzione italiana e quant'altro adesso la informo su un'altra cosa lei lo sa che il mobbing familiare che voi praticate all'interno della vostra setta nei confronti dei fuoriusciti è il reato penale nella legge italiana lo sa? ecco se lei lo sapesse non continuerebbe a blaterare in questo modo continuiamo io sono un credente quello che ci viene detto dalla Bibbia cerchiamo nella nostra imperfezione di mettere in pratica e non siamo come voi che andate dicendo che credete in Dio ma lo rinnegate dove non vi fa più comodo quindi lei in realtà sta dentro il mio essere dentro l'essere di tutte le altre persone e dà per scontato che noi siamo tutti delle persone che utilizzano Dio a loro piacimento come gli fa comodo perciò lei conosce quella che è la nostra fede personale lei sa tutto della nostra fede personale come mai? complimenti è onnisciente lei è come il Signore per la miseria non lo sapevamo e adesso arriviamo alla parte in assoluto più divertente semmai avrei io da dirle qualcosa sulla sua professione che non ho mai creduto a psicologi come lei e continui che è meglio ebbi modo di parlare con un suo collega anche lui psicologo e un mio vecchio caro amico dai tempi della scuola feci a lui una domanda io ho vissuto in un collegio da bambino dove a me le monache mi hanno sempre picchiato non con una semplice bacchetta ma con delle mazze robuste e nella mia vita ho pianto troppo per queste ingiustizie che al giorno dopo scattano immediate denunce quello che anni fa non venivano tutelati innocenti bambini io ho subito dei traumi incancellabili ora se io mi affidassi a lei con delle sedute per un periodo di tempo e le raccontassi tutta la mia vita passata che io le racconti che potere avrebbe per cancellarmelo dalla mente vi dico solo una cosa già per capirlo è stata un'apocalisse andiamo avanti mi squaglierebbe per poi ricostruirmi per carità non ci tengo non squaglio nessuno guardi ad esempio una bambina che oggi è stata violentata da un pedofilo come la guarisce dopo il trauma che ha subito che fa? va a lei a fare gli giustizia uccidendo lo stupratore? faccia una cosa lo chiede ai suoi capi come ci si comporta con le vittime dei pedofili che ne sanno ben donde si fidi se non sa nulla vada a leggere di quello che è successo in Australia vada vada se la faccia una cultura che magari oltre che imparare quello che accade nella sua setta studiando e leggendo impara anche a scrivere meglio perché sa che imparare a scrivere meglio per riuscirci la cosa migliore è leggere molto ma non le torri di guardia che impappano il cervello continuiamo è quasi finita amici che fa? va a lei a fargli giustizia uccidendo lo stupratore? ed era la domanda che fece al suo collega psicologo che lui confermò la stessa mia opinione essere psicologo è soltanto una cavolata e nient'altro guardi lo sa le risate che mi sono fatta io di fronte a questa sua idiozia perché questa che lei ha scritta è un'idiozia e lo sa perché è un'idiozia? perché all'interno della sua setta le insegnano come manipolare le informazioni e le parole degli altri se poi esiste veramente questo mio collega che ha fatto una risposta del genere beh sa cosa spero che lo abbiano cancellato dall'albo da un pezzo perché non è degno di stare nell'albo ok? c'è l'ultima frase abbiamo finito nessun psicologo può riuscire a cancellare il trauma subito da bambino ad un adulto oggi le auguro una serena giornata sale posso dire una cosa? l'ultima frase nessuno psicologo può riuscire a cancellare il trauma subito da bambino ad un adulto oggi? purtroppo è vera è vera perché noi psicologi non possiamo cancellare i traumi subiti dai bambini che crescono all'interno di una famiglia testimone di Geova possiamo ascoltarli possiamo fornirgli degli strumenti per cercare di affrontare la vita in modo più più semplice meno pesante più adeguato diciamo così e non mi metto a fare digressioni psicologiche perché non è il caso ma non possiamo cancellare quei traumi no? è vero non possiamo e le posso assicurare che ci sono dei casi dove quei traumi sono tanti e tali che ancora ci sono persone che a 40-50 anni quando ne parlano piangono come bambini ora volevo leggere un paio di frasi chiamiamole così avrei altri termini ma uso frasi tratte dalle vostre pubblicazioni a proposito di tutta questa marea di roba che lei mi ha scritto comunque complimenti ha sprecato non so quanto del suo tempo per scrivere quasi due pagine e mezza di inutili inutili fandonie allora prima cosa che voglio leggere torre di guardia del 1964 attenzione amici 1964 torre di guardia del 15 giugno pagine 368 382 le pagine così alte come il numero dipendono dal fatto che queste erano torre di guardia vecchie 1964 e quindi erano rilegate in tomi molti di voi che hanno fatto parte della setta le ricorderanno e magari qualcuno ha ancora genitori o parenti che ce le ha buttate in casa ste robe qui può esistere la falsa religione dire e dimostrare che un'altra religione è falsa non è una forma di persecuzione religiosa per nessuno non è persecuzione religiosa il fatto che una persona informata smascheri pubblicamente una certa religione indicando che è falsa permettendo così di vedere la differenza tra la religione falsa e la religione vera come mai vi dà così fastidio se qualcuno parla con informazioni corrette alla mano della vostra setta come mai vi dà così fastidio se qualcuno smaschera ciò che accade all'interno della vostra setta come mai sapete perché perché questa qui è la fiera dell'ipocrisia questa è la fiera dell'ipocrisia questo significa essere lupi in manto da pecora manipolatori ecco cosa significa e ancora torri di guardia del 1966 15 ottobre pagine 6 e 31 6 e 37 dove troviamo oggi la finzione la grande finzione è rappresentata nelle sette religiose della cristianità e che i capi religiosi di esse il clero della cristianità sono coloro contro i quali avvertirono gli apostoli Pietro e Paolo bravi bravi avete parlato dicendo la verità avete parlato di voi mi fa piacere che ogni tanto nella marea di roba che dite esce anche qualcosa di vero siete voi eccole le sette religiose della cristianità ok amici io non vi voglio tediare ulteriormente perché come dire siamo andati anche oltre a livello di tempo quindi non vi voglio annoiare ma purtroppo come avete potuto notare la marea di cose era molto molto lunga da dire e perciò niente vi lascio con questo vi lascio con un saluto un caro saluto a tutti e buona serata grazie 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 grazie